Oggi andremo a giocare ad Outlast 2. Sono davvero emozionato nel potervi portare questo contenuto sul mio canale e niente quindi da una parte sono eccitato dall'altra sono molto spaventato perché mi hanno detto appunto che questo è uno dei giochi più spaventosi che hanno mai fatto mai creato. Quindi andiamolo a provare insieme. Noi interpreteremo Blake Langerman, un cameraman che lavora per Working With Your Life. Perfetto, noi siamo quindi questo Langerman. Noi, non. Outlast 2. Noi interpreteremo un Langman, uno stronzo investigatore, un cameraman tedesco sicuramente. Dobbiamo trovare questa donna incinta che è stata rapita. Ok, non vedo un cazzo, senza occhiali come me, non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo, senza occhiali come me, non vedo un cazzo, senza occhiali come me, non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo, senza occhiali come me, non vedo un cazzo. Ciao? 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 Sono perduto e scusato. Ciao? 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 Ci... Ma che cazzo è questo figlio di pettina? Poi per quale motivo il tizio... Hello! It's me! Mamma che faccia di cazzo! Sì! Ma io sento le porte aprirsi qua! Ah no! Era un quadro sto coglione! Una croce di Sant'Antonio... Una batteria... Batteria 2 c'è l'altra... Batteria 2 c'è l'altra... ... 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 Si conclude qui quindi il primo episodio di Outlast 2... 2 se il video ti è piaciuto lascia like condividi e iscriviti al canale ci vediamo nel secondo episodio è tutto il cazzo che volete giocando ai videogiochi quindi mentre fate colazione i videogiochi saranno sempre con voi il tema è it's evolutionary cioè da pacman ad ano